Benvenuti nel mondo Atlantic. Atlantic è un'azienda svizzera di orologi con una storia lunga e ricca. Fondata nel 1888 da Edward Kummer a Betlach, la società iniziò producendo parti per altri grandi produttori di orologi come Longines e Certina. Tuttavia, non passò molto tempo prima che Atlantic si facesse un nome come produttore di orologi di alta qualità, diventando uno dei marchi più amati dai collezionisti di tutto il mondo. Il primo orologio Atlantic con il logo del sestante venne lanciato nel 1932, seguito da una serie di altri orologi di successo. Uno dei primi cronografi impermeabili di sempre è stato prodotto proprio da Atlantic, dimostrando l'abilità dell'azienda nella realizzazione di orologi resistenti e affidabili. Nel 1960, Atlantic ha fatto la storia dell'orologeria con l'invenzione dello Speed Switch, una funzione che ha permesso alla data di cambiare 52 volte più velocemente rispetto alle precedenti innovazioni. Questo successo ha permesso ad Atlantic di vendere la sua tecnologia ad altri produttori di orologi, dimostrando ancora una volta la capacità dell'azienda nel campo dell'orologeria. La gamma di orologi Atlantic comprende un'ampia selezione di modelli, dai classici ai moderni, dagli sportivi ai più eleganti. Tuttavia il segno distintivo del marchio rimane la collezione Worldmaster. Questi orologi, con il loro design distintivo e la loro costruzione solida, sono sempre stati rivolti alle personalità forti che perseguono i propri obiettivi senza compromessi. Nonostante ciò, oggi gli orologi Atlantic sono accessibili a una vasta gamma di persone, poiché l'azienda offre un'ampia selezione di modelli ad un prezzo accessibile. Ma ciò che rende veramente speciale la collezione tradizionale di Atlantic è il suo aspetto unico e distintivo. L'ispirazione atlantica si manifesta in ogni dettaglio, dai colori dell'oceano alle linee eleganti e classiche. Chiunque voglia portare un pezzo di storia e di eleganza al proprio polso, l'orologio Atlantic è sicuramente una scelta vincente.